Allora, non mi chiede il mio... Mi ha attesa di salire un palco... ...per far fare video... È parecchio importante che adesso sia uno di voi, chi vuoi... ...tu... 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 ... ... ... C'è la fila... ...c'è prima il signore... ... ... ...questa è quella col canotto. Ecco lì. Eh sì, questo è quello col canotto. ... ... ... ... ... ... si è buttata e ha cominciato a contatto che è successo? l'ho chiamato, stava andando a prendere la pupa all'asilo non so se è riuscito a venire ma pure Marco sta saluti a me non può non può fare tutto, cioè io non c'è niente si, io lo so, non c'è stato di tempo grazie